Presidente Croce, si continua a parlare della vicenda Naya, di qual è la situazione ad oggi e soprattutto quali sono le prospettive per il centro sportivo di Viare Rivera Nord? Sì, ormai come è noto a tutti, l'ATI che gestiva l'impianto sportivo nell'ultimo periodo ha riconsegnato spontaneamente le chiavi alla Regione Abruzzo, che quindi è rientrato in possesso dell'impianto e adesso la Regione Abruzzo dovrà decidere sia come e se riaprire immediatamente per gli atleti agonisti e per le società che fanno campionati a livello nazionale, le due società di pallannuoto e poi soprattutto, che è l'argomento più importante, portare a termine l'itero amministrativo per definire il progetto di finanza che è stato presentato qualche mese fa da alcuni imprenditori locali oppure se fare un vero e proprio bando per dare in gestione la struttura almeno per una decina d'anni. Tutti, sia i consiglieri di centrodestra che quelli di centrosinistra, così come quelli del Movimento 5 Stelle, tutti quanti tengono a questa struttura e tutti vorrebbero che fosse riqualificata e che fosse di nuovo disponibile per tutti. Giustamente in questo momento il governo della Regione Abruzzo e del centrodestra, quindi i consiglieri di centrosinistra, diciamo così, cavalcono l'onda e criticano questo momento. Secondo lei, Avvocato Croce, la Regione ha fatto tutto il possibile per l'enaio di fino ad oggi? Secondo me, da quando è subentrato il centrodestra, ha fatto tutto il possibile, nel senso che ha ereditato una situazione disastrosa perché purtroppo le naidi venivano da un fallimento e precedentemente da un concordato preventivo, quindi si trovava in una situazione disastrosa. Quando è subentrata la Regione Abruzzo del centrodestra a luglio 2019, diciamo così, insomma nell'anno 2019, si è subito adoperata, ha permesso la riapertura dando un'ingestione a quei stati e la riapertura ha dato subito i suoi frutti perché in effetti ha ricominciato a funzionare e ha avuto anche degli utili e tutti gli atleti hanno potuto frequentare le naidi. Poi purtroppo il Covid e altre situazioni hanno di nuovo ribloccato la situazione, ma la realtà comunque secondo me è un'altra, cioè che le naidi ha comunque bisogno di una grande riqualificazione e ristrutturazione. C'è la necessità che intervengano degli imprenditori che possono in qualche modo investire effettivamente sulla struttura per poi permettere una gestione facile per diversi anni, quindi c'è bisogno di un investimento per e proprio.